Un'iniziativa che giunge a un'edizione importante, che si svolge in un teatro bellissimo della nostra città, il Teatro Mediterraneo, e che ha un grande cuore, il cuore di tanti artisti, a partire da Maria Grazia Cucinotta e tantissimi nomi made in Naples del nostro territorio, che si mettono insieme per una serata di spettacolo veramente entusiasmante, per una causa molto nobile. Io invito quindi tutte e tutte a partecipare, soprattutto i più giovani, a ritagliare un piccolo spazio di tempo nella propria vita per prendersi cura degli altri, anche divertendosi o partecipando ad uno spettacolo al Teatro Mediterraneo, perché la nostra felicità dipende dalla felicità di chi ci sta vicino e oggi dedichiamo tutto a dei piccoli e grandi eroi della nostra città, che sono gli ospiti della Santo Bono, l'istituto pediatrico più importante del Sud Italia e per noi più importante della città di Napoli. Il programma della dodicesima edizione della manifestazione Un mondo di solidarietà vede in scena ospiti del panorama artistico italiano venerdì a Palazzo Caracciolo e sabato al Teatro Mediterraneo, in uno spettacolo patrocinato dall'assessorato ai giovani con il ricavato destinato a due progetti solidali delle fondazioni Casa Amore e Santo Bono Pausillipon. Venerdì sera faremo una cena di gala a Palazzo Caracciolo e il ricavato della cena andrà per la fondazione Casa Amore per i bambini autistici, mentre sabato sera lo spettacolo del Teatro Mediterraneo sarà donato alla fondazione Santo Bono Pausillipon. Quindi due bei progetti per i bambini perché il nostro core business dell'evento è sempre e soltanto avere attenzione per i bambini. Sì, un'altra importante manifestazione che racconta la solidarietà che la città di Napoli riserva ai nostri bambini, al nostro territorio, al nostro ospedale. Dobbiamo sempre ringraziare questi imprenditori e gli artisti che non si dimenticano dei bambini che soffrono, dell'ospedale che ha bisogno di migliorare sempre più.